Vieni Carno Popolo quante fate? io ho tre o quattro il nostro corso gratuito è un po' di più Tutto bene? Quello che io cavo granchi con la parruzza Granchi con la parruzza è questa cosa Lo stai dando Auguro Bernardo Popolo Paolino Ma cos'è questo? Un DPS di Dimitri che bisognava testare Con le tante arrughe Un coppio